Allora, buonasera, felice l'amico, benvenuti, siamo alla 51 Club Quante belle donne questa sera, ma tu sei sempre la numero uno Troppo carino, troppo buono, mi vuoi bene Questo taglio ti dona Hai visto? Te l'hanno già detto? Il mio parrucchiere oggi si è cimentato, si è dato da fare No, non me l'avevi ancora detto No, te l'hanno già detto altri? Che ti sta bene questo taglio? No, sei il primo Sono il primo? Perfetto, ti hai fatto fissa, allora, ne ho vedi Sei un bugiardo, io lo dico Gianluca, brutto natroccolo Adesso siamo già in onda L'ho sposato io Gianluca, Gianluca sei un grande Ah, nel senso che sei stato tu al suo matrimonio Cioè praticamente tu eri al matrimonio di Gianluca e Patrizia Sì, sì Sì, vabbè, il prete ci manca pure Senti Il diavolo è l'acqua santa però Stanno tutti a vedere io che faccio l'intervista Vogliono sentire, volete sentire cosa ci sono? Vogliono sentire l'intervista Vabbè, l'intervista Sentiamo quali stupidaggi, mi dice il polizio d'amico Sentiamo le mie stupidaggini, che cosa vuoi sapere, cara? Vabbè, voglio sapere prima di tutto Perché a tutti quanti loro piacciono il 51? Perché il 51 è un bel locale È ampio, è alto di cielo E quindi, come dire, ha una buona acustica Poi soprattutto ci sono pure io ogni tanto, una volta a mese Secondo me piaci tu Sì, vogliamo fare un applauso a Felice D'Amico? Ma quanto vi piace Felice D'Amico? Da 1 a 10? Quanto vi piace da 1 a 10 Felice D'Amico? 10 a me Perché sono tutti amici fraterni Vi voglio bene a tutti Li abbraccio, li bacio a tutti quanti Sono tutti amici E allora ci rivediamo dal 51 Quando ci rivediamo? Ci rivediamo il mese prossimo Faccio una volta al mese Quindi tenetevi aggiornati in stress di notte Tanto lei ve lo dice quando ci sono Sennò sulle mie pagine Facebook Qualche volta... Intanto poi tra un locale e l'altro Ce ne andiamo a Santo Domingo Io lo possiamo dire al microfono Ti devi portare Gennaio dell'anno prossimo Tutti a Santo Domingo con me Tutti me lo stanno chiedendo Tutti ospiti suoi Sì, se ti avvicini così ti do un bacio in bocca Basta, al 51 Sì, se ti avvicini così 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 Non so, vuole fare la foto sempre quando noi facciamo l'intervista Facciamo la foto, scusate un attimo Come tu è idiotico Buonasera, che cosa diceva, scusami? Guarda, guarda, non ho sentito, penso che stessi prendendo in giro a te per come ballare Ecco, ecco, mi stava richiamando, perché io facciamo l'intervista, perché io facevo fare quel ballo così Tutto bianco, tutto bianco, tutto bianco, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, i pensieri, allora, che mi racconti di bello? Ma guarda Oltre che la domenica continua il nostro tango argentino No, niente di che, guarda, procede Io mi sono fatto un po' Ah, io pensavo che avessi messo le dita nella corrente Brutto, natroccolo style Stai bene, stai bene Guarda, niente, vabbè, le immagini parlano da sole, c'è il pienone E a te ti vedo rilassato, ti piace stare in cucina, a diriggere il traffico dei piatti Rilassato come una corda di violino, direi, veramente, molto rilassato Però ce l'abbiamo fatta anche stasera E vai! E vai! Perchè! E allora, tutto bene, quel che va bene, siamo felici, siamo contenti, la gente risponde bene e ricordiamo i nostri appuntamenti. Allora, per questa settimana abbiamo soltanto sabato prossimo il Canto delle Sirene, quindi con Luca Esposito, già sono stati qui, sono molto bravi, due voci femminili, Paola Tiberio e Antonia Zanfardino. Bellissima serata, prima musica d'ascolto e poi disco 70-80 Revival. Domenica c'è il tango argentino. E a me piace, io adoro, Felice d'Amico, mi sta facendo divertire come la Marta. Si vede che ama Santo Domingo, mi sta mettendo tutti i balli carai. Lui ormai è dominicano d'adozione, sì. E poi che vogliamo dire più, che l'altra settimana... Che la prossima volta che Felice se ne parte tu lo accompagni. Cioè, dove per andare a Santo Domingo? E pochi torno, no. Non posso, purtroppo non posso. Poi diamo l'appuntamento di venerdì 4 marzo con i Sol Italia che torneranno qui, quindi tutta musica italiana legata a medley. Si canta, si salta, imitazioni, show. Salta pure. Ti sa, salti tu, io non salto, non ce la faccio. Se salto mi sconoccio, quindi non è il caso. E niente, questi sono gli appuntamenti. Non ce la posso mai fare, Emanuele. Si smuove tutto. Veramente sono a pezzi, ti giuro. Basta, abbiamo finito. Lippo line. 347-8013719, 089273728, contatto Facebook personale Alfonso Tortora, pagina ufficiale Al51 Club. Sito web www.al51club.com, poi siamo su www.stressdinotte.it, su www.scoprisalerno.it, su www.salernolocali.com e ci troviamo sulla Lungo Irno, zona industriale di Fratte, via Federico Venner, numero 51, comune di Pellezzano. Benissimo. Daresti il tuo telefono per 24 ore alla tua fidanzata? Certo che sì. Non ci credo. Perché? Eh, guarda, io non ho niente da nascondere. Sì, però non è questo, cioè lo daresti, non ti darebbe fastidio. Ma lo darei, mi darebbe fastidio il fatto che non posso usarlo. Passi, finalmente. Come sono psicopatico io, starei male perché mi può arrivare una telefonata, devo rispondere, devo fare una telefonata. Per quello mi darebbe passi, ma non per altro. E allora diamoglielo per 24 ore. Qua dopo glielo dico io. Dopo glielo diamo, va bene. E allora al 51club.it, al 51club.com. E la domenica continua il nostro tango argentino. Ci vediamo dal 51club. Lui, poverino, non ce la fa più. Vieni, sarò la tua spalla. Vieni, vieni, ti appoggio. Vieni, ti sostengo io. Non ti preoccupare. Vieni, ti accompagno in cuscina. Vieni, vieni, non ti preoccupare. Ti accompagno io. Vieni, vieni. Appoggia, ti appoggia, ti appoggia. Non ti preoccupare, appoggia.